Musica Buongiorno, benvenuti, questa è la rassegna stampa di Fano TV, occhio ai giornali questo oggi abbiamo slittato di qualche mezz'ora per la diretta con il Papa e infatti anche la replica non andrà a 1.30 bensì a luna comunque anche le repliche successive, un saluto a tutti voi che ci state ascoltando come ogni sabato partiamo naturalmente dal santo del giorno e poi dalle previsioni del tempo oggi sabato 28 novembre San Giacomo della Marca, religioso, il sole è sorto alle 7.18 e tramonterà alle 16.34, vediamo qual è la situazione in questo momento la temperatura è di poco superiore ai 7 gradi però vedete la webcam ci rimanda un'immagine con un bel cielo limpido che fa presupporre sicuramente una giornata di bel tempo infatti anche la protezione civile delle Marche ci dice che il cielo è sereno, poco nuvoloso e transito di qualche stratificazione medio alta in serata, precipitazioni assenti le temperature sono in diminuzione mentre le massime in lieve aumento le previsioni per domenica uguale, insomma cielo sereno poco nuvoloso niente pioggia, venti di bava quindi insomma veramente poco mosso il mare a rispetto di quanto invece è avvenuto nei giorni scorsi le previsioni per lunedì anche qui vedete una ridascalia molto scarna sereno poco nuvoloso, nessuna precipitazione e venti di brezza e mare poco mosso quindi si placcherà la furia del mare che ha imperversato invece anche ieri tendenza per i giorni successivi l'espansione dell'alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate almeno nella prima parte della settimana e quindi ci sarà bel tempo questo fine settimana e anche l'inizio della prossima settimana e vi dicevo che il mare si è calmato, si è placata la furia del mare e insomma però le conseguenze ci sono state, dopo vedremo nei giornali è riportata anche questo aspetto di questi giorni partiamo con le spese pazze in Regione nessuno ha convinto la Procura in 66 devono andare a giudizio e quindi Regione per le spese pazze appunto nei guai un intero consiglio e i funzionari casi particolari gli occhiali del Presidente il lardo di calonnata il libro sull'orgasmo femminile insomma ce n'era veramente di tutto ecco vi dicevo in apertura il mare la mareggiata che c'è stata in questi giorni ha sicuramente fatto danni e in effetti nelle pagine del resto del Carlino con delle foto a quanto mai eloquenti è documentata la mareggiata si mangia un altro po' di spiaggia ma non quella naturale sabbia al vento danni anche alle strutture barneari la moria continua altre 4 tartarughe spiaggiate nel 2015 il numero è raddoppiato e vedete nella foto insomma sia le tartarughe che gli stabilimenti balneari flagellati anche Viale Ruggeri è stato ampiamente colpito ci sono immagini che giro nel web che abbiamo registrato anche noi che vi faremo vedere e insomma naturalmente siamo ai soliti problemi vi porto nella pagina del resto del Carlino che parla del Natale a Pesaro quest'anno sotto l'albero si pattina concerti, animazioni e brindisi oggi alle 18 l'accensione delle luminarie e si annuncia appunto il Natale anche a Montelabate ci sarà il mercatino e intanto piazza a cuore allestimento del mercatino curato anche dagli studenti del liceo artistico Mengaroni, vedete nella foto la bella piazza del popolo di Pesaro con le bancarelle tutto qui in circo l'albero e la pista di patinaggio una piazza sgombra naturalmente permette di fare tutto ciò andiamo nelle pagine di Fano continuiamo vi porto nelle pagine di Fano del resto del Carlino dove si parla dello zuccherificio e Fano non deve morire questo lo dicono i leghisti che fanno il comitato elenco di uffici chiusi e progetti abortiti dicono la responsabilità è colpa di vent'anni di sindaci di sinistra a Guzzi compreso questa è la loro visione vedete appunto le incompiute dello zuccherificio con gli edifici scheletrati ancora lì a testimoniare quanto perlomeno non si è fatto troppi assenti niente consiglio mancano sette in sette all'appello sei sono della maggioranza vedete quindi la condizione dello zuccherificio è una condizione che rimane anche come brutta eredità insomma dal passato non si riesce a trovare il bandolo della matassa il Natale anche a Fano partirà questo questo fine settimana una un asset un nostro insomma una nostra perla un nostro gioiellino è il presepe di San Marco uno dei pochi presepi meccanici delle marche bellissimo ogni anno è un work in progress completo anche quest'anno ci saranno scene nuove e appunto si parla nel carlino di questo di questo gioiellino fanese che attira tante persone da tutta Italia e il presepe di San Marco appunto è già pronto apertura straordinaria nei fini di settimana grazie al traino di candele a candelara e le novità non mancano come ogni anno quest'anno ci saranno come appunto vi ho detto scene nuove nella grotta appunto di Palazzo Fabri che ospita il presepe di San Marco e poi per gli obbisti che fanno i mercatini che mettono in vendita le loro loro opere ultime ore per presentare le domande in comune mercatini che insomma animano spesso anche la Sassonia o il Lido e che riempiono insomma le serate lungo insomma il lungomare allora niente trivelle in Val Cesano una buona notizia arriva il ministero dice no al progetto l'annuncia il consigliere regionale Franco Federico scusate Federico Talè cambiamo testata quindi insomma in Adriatico non ci saranno le trivelle andiamo nella pagina di Pesaro del Corriere Adriatico dove si parla dell'operazione della Guardia di Finanza sulle frodie delle granaglie 33 a giudizio falsi prodotti biologici giro da fare per 126 milioni una parte delle importazioni era addirittura nociva oggi si inaugura la pista di ghiaccio in piazza e questa è naturalmente l'iniziativa di Pesaro e ancora dalle pagine del Corriere Adriatico parliamo dell'Asur che seana l'affidamento naturalmente parliamo delle ambulanze Croce Verde attiva a Montecchio Pesaro e Calcinelli e quindi insomma copertura del territorio forte mareggiata anche qui vedete ingrandiamo quanto è possibile la foto vedete forte mareggiata divora gran parte del littorale ci sono anche altre foto dopo ve le faccio vedere Fano un'impresa chiude il bilancio siamo nel comune di Fano nelle pagine del Corriere Adriatico l'assessore Cecchettelli illustra la politica dei tagli alle spese mezzo milione extra per due espropri insomma assestamento in consiglio e poi i 5 stelle tanti forfè nella maggioranza e quindi l'annullamento del consiglio comunale di ieri rimaniamo nelle pagine del Corriere Adriatico per quanto riguarda Fano e un'iniziativa a favore degli studenti per sensibilizzarli a riguardo di un argomento estremamente delicato il gioco il gioco e anche insomma le slot machine che spesso hanno causato disastri finanziari a famiglie e a persone se lasci perdere vinci progetto di prevenzione tra studenti e anziani sul web gli esercenti fuori gioco cioè coloro che non hanno nel loro bar o nel loro esercizio commerciale le slot machine anche Monbaroccio parte con il Natale oggi al via con la nevicata nella piazza e quindi tutte le bancarelle aperte quindi insomma si stanno incominciando a movimentare insomma tutte le città che ospitano questi mercatini che creano tanta atmosfera e allora l'outlet siamo a Mondolfo si fa il cantiere entro il 2016 reazioni di giubilo di sindaco e assessori di Mondolfo si realizza un sogno è uno sviluppo per tutta la ballata andiamo anche nelle pagine di Senigallia per quanto riguarda il Corriere Adriatico perché anche qui hanno a che fare con razzie e ruberie bar e negozi sono stati presi di mira arrestati anche i responsabili due giovani pakistani bloccati alla stazione mentre stavano brindando addirittura con il vino rubato insomma è qui nella foto vedete tutta la refurtiva che è stata recuperata colpiti i caffè del corso e carducci alimentari da angela una addirittura macelleria e l'Istanbul kebab non hanno risparmiato nulla andiamo con l'ultima testata che vi propongo nella segna stampa che è il messaggero e anche qui apertura sulle spese pazze processate tutti questa è insomma la richiesta del PM con il rinvio a giudizio di 66 consiglieri indagati maxi udienza ci sarà il 18 gennaio ve la ripropongo la pagina perché ecco c'era questa foto che vi volevo far vedere qui siamo appunto a ridosso della palla di pomodoro a Pesaro vedete questa è la passeggiata insomma guardate la furia del mare è arrivata fin ai giardini e questa persona appunto cammina proprio tra l'acqua del mare e andiamo anche a leggervi la notizia che riguarda la nuova banca delle marche la di Goffi dice non ci saranno misure compensative sono dispiaciuto perché ha perso però il sacrificio inevitabile ora abbiamo una banca sana per sostenere il territorio ma su questa cosa non sono tutti d'accordo soprattutto gli azionisti che annunciano iniziative legali su tutti i fronti e anche il messaggero di Pesaro mette in evidenza l'apertura dei mercatini e dell'attività nella piazza e si fa una citazione anche alla paura che sta serpeggiando nei luoghi pubblici per via degli attentati che si sono stati a Parigi riempiremo i teatri per battere la paura questo è il titolo del messaggero presentato il programma delle manifestazioni di Natale numerosi appuntamenti senza appunto dimenticare l'attualità la scommessa del sindaco Ricci dell'amministrazione la città già viva d'estate lo dovrà essere anche d'inverno e qui riproposta la foto della piazza albero e luci oggi si accende intenso fine settimana non solo a Pesaro ma anche a Candelara dove inizia la popolare Kermess delle delle candele ecco l'ultima pagina che tratta della burrasca di vento siamo sempre sul lungomare forti raffiche forti raffiche negli ultimi giorni hanno riproposto a Pesaro l'emergenza della cancellazione della renile e anche a Fano vedete insomma Viale Ruggeri è di nuovo un fantasma perché insomma ci sono veramente basta che andate lì e vedete oggi che non c'è il mare grosso potete fare una passeggiata e vedere che cosa è successo nuovamente l'assessore Fanesi dice il 22 di dicembre ripeteremo le buste con le offerte per le scogliere a Sassonia Sud problemi anche a Marotta dove i consiglieri Rapa e Talè chiedono un intervento in regione e dispiace sempre vedere tutto l'inverno insomma Viale Ruggeri in quelle condizioni così devastate una devastazione infinita ieri volavano pezzi di asfalto fin all'interno fin dove c'è il parcheggio per i camper la pagina di Fano l'ultima che vi propongo è quella del messaggero come sempre Maxi Truffa del Bio inchiesta chiusa con 33 richieste di rinvio a giudizio due anni per portare alla luce un vasto traffico di granaglie spacciate per biologiche scoperte dalla finanza pensate 350.000 tonnellate provenienti da Moldavia Ucraina e India il Black Friday come è andato tra luci e ombre c'è nell'articolo l'andamento di questa prova di Black Friday in Italia c'è chi ha registrato un buon afflusso di clientela tenendo aperto fino alle 22 ma anche chi non ha notato grosse differenze e poi buone notizie per gli studenti il liceo Nolfi non è più al freddo riparato il guastro e quindi i studenti potranno studiare al caldo costituito il comitato Fano non deve morire appunto da parte della Lega Bene ed era tutto per questa rassegna stampa di oggi sabato naturalmente la rassegna stampa tornerà al suo orario consueto alle 7.30 lunedì mattina grazie per averci seguito sin qui buon sabato e buon fine settimana a tutti voi grazie a tutti